Fun! Numbers! Attenzione! Malfunzionamento nel propulsore B! Ah, merda! Dobbiamo atterrare da qualche parte per ripararlo! Ah, c'è un giovane pianeta a pochi passi da qui! Magari ci saranno delle ragazze giovani! Ok, amico, vado a fare un po' tant'ora. Fammi uno squillo quando la nave sarà operativa. Mmm, mitico! Ciao! Tu non sei il serpente cattivo di cui mi ha parlato la mia dea, vero? No, io sono un uomo! Ho le braccia, vedi? Braccia, braccia! In tal caso entra pure, l'acqua è calda! Tuffabomba! Hey! Oh, andiamo! Mettiti le mutande! Che problemi hai, amico? Cosa sono queste mutande di cui parli? Servono a coprire il pacco! Nessuno vuole vederlo! Perché nessuno vorrebbe vedere il mio pacco? Il pacco mi è stato donato dalla mia dea! Mi ha detto che è bellissimo e niente di cui vergognarsi! Magari se lo toccassi un pochino non ne avresti così paura! No, grazie! No! Non vedo l'ora di tirare la mia dea di questa meravigliosa esperienza! Eh, forse faresti meglio a tenertelo per te! Oh no, il serpente è cattivo! No, è solo il mio pene! Oh! Oh, non di nuovo! Che cosa ho fatto per farvi arrabbiare mia dea? Io non vedo alcun serpente o frutto! Quelle erano ovvie metafore per pene e testicoli! Oh, cos'è una metafora? Ora basta! Tu e Adamo siete banditi! Dov'è finito, Adamo? Quindi la mia dea mi ha tolto una costola e ora posso fare questa cosa! Vuoi vederla? No! Oh, la mia dea mi sta convocando! Quando torno ti faccio vedere quella cosa! Brutto imbecille! Hai idea di quante volte abbia provato a creare un perfetto mondo paradisiaco per quei due idioti umani? Ehi, non è colpa mia! Avresti dovuto farla meno sexy! Hai mai provato l'ira di una dea furiosa? Tipo cinque o sei volte! Lucuste! Perché? Piuttosto saporita! Au! Oh, per Dio! Ah! Dobbiamo tornare indietro! Mi sono totalmente dimenticato di fare l'amore con quella dea! Stai scherzando, vero? Perché dovresti anche solo provarci? Ha appena cercato di ucciderti! Hamilton, non esiste provare, ma solo il buttarglielo nel di dietro! Torniamo indietro! Ciao ragazzi! Se il video vi è piaciuto, come al solito, fateci sapere qui sotto nei commenti! Come sempre, ringraziamo Chiara per il suo prezioso contributo! E non dimenticate di spuntare la campanellina in basso a destra per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che pubblichiamo! E ora passiamo ai sala mapparippa tudututti tutta! Allora, io che sono Joker, ci tenevo a salutare The AJ Place! Ciao ragazzo, fai il bravo! Io che sono Hawk, ci tenevo a salutare Santiller19! Ciao Santiller19! Mi raccomando, se vuoi venire con me Ash, stai attento alle sue Pokémon! Ciao, io sono Saitama e volevo salutare Black Panther! Ciao Black Panther, ti dedico il mio pugno serio! Ciao, io sono All4One e volevo salutare Zoom Lerk! Ciao Zoom Lerk! Ho elaborato un piano assolutamente imperdonabile! Perdonabile! Perdonabile! Perdonabile!